Ti vedono anche loro Ciao ragazzi Benvenuti in questo video Video che arriva alla fine di una giornata fantastica All'alba delle undici Siamo qua con flash cose Sembra giorno Sì Io sembro più nero rispetto al video di prima Io mi è bianca Ciao Emilia, t'ho sfottuta Emilia la sfottevo, lei va a fare le vacanze Al mare, tu ora sembra che è stata Grotta afferrata Ciao Emilia, ciao a tutti Benvenuti in questa vita Allora dicevamo oggi giornata figa Uno perché mi sono fatto il tatuaggio Che è, guardatelo lì sopra Indicami il tatuaggio Questo È un fiore in un bicchiere Eccolo lì Canzone prestigiosa di Parti Bravo Racconta l'estate L'estate mia, l'estate semplice L'estate fatta di sole Di poche cose addosso Di divertimenti insomma Tatuaggio Un po' tutto l'anno Un po' tutto l'anno Sì, pure brutte peraltro Abbiamo incontrato Lucy Benedetti Un abbraccio E il marito Il marito, Mau Un mio grande amico Insomma una giornata E la zia E la zia Anche la zia Abbiamo incontrato Una giornata molto bella Insomma Che al su Ci abbiamo girato per Como Tiger Ecco Guarda qua Tiger Vero? Tiger Questa è una cosa rosa Tiger Allora partiamo dal presupposto Che da Tiger Oh prima di tutto Uno non c'era il sacchetto nuovo Non c'era il sacchetto Gliel'ho chiesto Questo mi ha guardato così Vedi questo è arrivato a rompercazzo Vabbiamo Io di questi qua Ne ho tantissimi Se vi manca uno dei vecchi sacchetti di Tiger Fate il film che ve lo mando a casa gratis A gratis Ve lo porto fino a casa Allora iniziamo Io cercavo delle tovagliette Ricordate il video di Natale Chi non se lo ricorda Boh per lui Dico perché Ancora Siamo ancora qui con quelle di Natale Dico andiamo a cercare quelle estive Le abbiamo provato Ma non solo Palli del tutto da vicino Ma guardate che fighe sono E già qui iniziamo a salutare Betta Eh ma poi ce ne sono un sacco d'alte Che non ti ricordavi Ho preso i tovaglioni Apposta per Betta Ah vero Betta un bacio Sei splendida Una persona fantastica E questo Di Bettegoni Andate a trovare E brisle Con lo squalo Sono due e due Eh lo so Tic tac Due e due Bellissime Poi Questo è un master Un euro Questo è un euro l'una L'una Poi questo è un master Sono dieci spugnette Piccole ma fighe Un euro Eh vada Dieci centesimi l'una Che faccio una valga Non sia mai E quindi queste Poi Davvero Ehi Un amico nostro Parti qua Ecco i tovaglioli Allora Betta 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 Che dici di questi Betta E' il periodo Ma si erano tantissime ananas Tutto Il periodo dell'ananas E' una cosa Eh guarda il magazine Guarda il magazine Anche nera infatti Eh Cos'erano delle basi In copertina Guardate quanto adesso Ve le faccio vedere velocemente Erano dei portati light Adesso ve le facciamo vedere A Betta E guarda Betta Ho detto che eri protagonista Del video vero Betta Ma anche qua Quando è che vieni a trovarci Betta E questo qua è il portati light Vedi Eccolo qua Questa è la progettazione Lui è il progettatore di ananas Fa vedere chi Eccolo lì Questo è uno Poi ci sono un sacco di cose nuove Ancora più Ananas E' un po' il filo conduttore La maschera La maschera di ananas Tutto ananas E la gente che ci guarda Diceva Viene l'ananas Però Allora Qui arriva una figata Allora Vi dovete sapere Che noi andiamo a Prendiamo il sole giù No E in estate Se è caldo cane Ci viene sete E ci troviamo Una bottiglia Una cosa Allora abbiamo trovato Questa cosa Che per me E' un capolavoro Allora Questo è aperto In pratica È Oddio Facciamo vedere Che in realtà Se lo dici sei dentro Pipì L'esame delle urine Hanno quasi Vado là Così 3 litri e mezzo Ma che apre qua L'infermire Ma davvero C'è Ma perché non l'hai L'hai tolto Aspetta E perché Quando c'è il manico Allora in pratica Questa cosa succede Avete visto come era prima No Poi voi lo aprite Lo aprite Ecco Adesso io lo romperò No Oddio Eccolo qua Lo aprite Diventa sto Ciambellone Poi lo riempite 3 litri e mezzo Ci fate la pipì dentro Se dovete fare Se no ci mettete Quello che Più vi aggrada Mel Ho detto aggrada Mel Ti vuoi vedere Tappo Eccolo qua Adesso A parte i giochi Posso salutare così Random Manilia Kika 73 Ti voglio bene Kika Così Random Eccolo qua E poi chiuso Messo un attimino Se lo fiam E poi c'è qui Lo spillatore Lo spillatore Adesso Ditemi se non è una figata Sta roba qua Poi uno dice Come bevi Tattacchi E allora E qui ancora Chiamiamo in causa Betta Betta dice Guarda cosa arriva Betta Tiè Di questo ho fatto Il gabon Vedete Adesso perché C'è Questa è l'ananas Vedi qua l'ananas Adesso perché C'ho il flash davanti Allora Voi lo comprate In realtà Con la culla Canuccia Canuccia rosa Che non ci piaceva Allora abbiamo fatto Un magheggio L'abbiamo presa Azzurra Che è anche più carina E tra l'altro Vedete che Fa pandan Mazza Questo è il massimo Dei colori miei Poi qua saluto Nica Nica ormai Queste birro Me l'avete già Viste un sacco Di volte Due euro Luna Due euro Brù Due euro Rosse Penne fantastiche Scrivono benissimo Ma una cosa Mi sono queste penne Nica Nica Tutte le va a farlo Non invasate Un abbraccio Nica Poi Ventilatorino Questo l'avevo già preso Che se ne è fregato mamma Quindi l'avevo preso un altro L'avevo preso Che era giallo Giallo con la L'anguria No Con il comero No L'amone No Arancia 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 Poi c'era Questo con la mela Russo Che è il ventilino Se lo facciamo vedere Il video precedente Sembrava una supposta Sembrava E in questo caso Non ha le batterie Vabbè comunque Poi le cambieremo Le mettete qua dentro Qua giro Vi allietate Con l'aria fresca Che so Poi c'era rosa Con E qua c'è La frangola Ecco qua No Rosa era con l'anguria No Sì Diciamo questo Ah la cassa è la mela È certo E poi c'era Verde con la pera Sì Poi abbiamo quasi finito Poi ce ne andiamo Questo è un altro Master che spesso compro È il profumo al bergamotto Per il sapone al bergamotto Per le mani Due euro Poi cosa abbiamo pagato Questo qua abbiamo pagato Sei euro Questo qua Il Che è questa È un gioco magico Con le carte Sì ci sono delle carte Con dentro Dovrebbero essere Tre giochi Se non sbaglio Trick playing cards Vedete È un gioco di carte Che fate Le cose Le avevo letto In qualche parte Che erano tre Tre giochi Vabbè insomma Parlo delle magie magiche Silva Levate che sono arrivato io E basta C'è lo scontrino Le abbiamo detti Direi No allora Arriviamo A prendere il gelato Ciao Ciao Insomma La gente Mi affa più Capito Occhio che parto Ora Stiamo per entrare A prendere il gelato Di base Io sto sul mango Piuttosto che Non fa caldo I frutti Lei è subito sparata Sul sud E cosa hai preso Yogurt E Kinder E Kinder Io niente Faccio per entrare C'era sta bambina Che è diventata Subito il mio idolo Assoluto Seduta per terra Aveva gelato Nel passeggino Non era stritta No Era un passeggino Sembrava su un gradino No E' abbandonata Col gelato a puff C'era la mamma Cioè col gelato a puffo Il problema è che Aveva la barba Blu Sembrava quella là Che Sembrava sporca Ma Cioè ma non era Io non ho visto La barba del gelato Blu Tutta Qua Così Io sono entrato in gelateria E dico voglio il puffo Cioè non esiste Solo che poi mi cade l'occhio Sul gelato gusto Crema lago Crema del lago Ora parlo con la gelataia Dico senti ma Crema lago con me Dice no buona Con quello Con quell'altro E dico sì è buono Perché c'era dentro tipo Cioccolato fondente Cioccolato fondente Crema Era Zabbaione Zabbaione Giusto appunto col puffo Cioè C'è un cancazzo Con il puffo E avrei messo uguale Tanto Perché i gusti Gli abbina sempre a caso Cos'è che ci ho messo io invece Il fior di latte E glielo spiego Dico no guarda Visto che fuori c'era la bambina La gelataia Ma guardato malissimo Cioè poverello Questo qua è appena Murino Dal settimo piano Del valduce qua E battilato una cucchiaiata Per farvelo assaggiare Vabbè Che era buono Buonissimo No peraltro Se capitate a Como Andate e mangiate Quello È quello sulla via Della Mondadori Per chi è qua di Como Insomma Va bene Dopo questa cosa Di cui giusto appunto Non gliene potrebbe calare Di meno a nessuno Vi salutiamo Abbiamo salutato Beta Oh ragazzi Un abbraccione Buon Tutto Noi adesso Andiamo a vedere un film Ciao il cazzi No Andiamo a vedere un film Dovemo scrivere delle cose Anzi Veniteci a trovare Sulla nostra pagina Di Positive È vero Che abbiamo iniziato L'antività Io e lei Se volete venire A trovarci So che l'avessi già Presente Veniteci a trovare Profili nostri Venite Nick Dukavonpiste Filmi salvi Poi cosa abbiamo Il The Book Sprat Un po' di roba Dove ci trovate Dappertutto Oppure per strada Passiamo Da un fisco Ci fermiamo Ci beviamo il caffè Quindi cosa facciamo Dovemo scrivere due cose lì Poi ci vediamo Un film Non di paura Dai mi avevi detto di paura Ero già pronto Ma so sì No vediamo Ah tra l'altro Aspetta Prima che Cactus Un bacio Basta Perché magari gli altri Ma davvero Quindi niente Un film Una cosa Una passeggiata Un goccetto Sembrava già Che abbiamo fatto I parecchi Di goccetti Dico ecco E niente ragazzi Andiamo State bene Mi raccomando Buonanotte 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 Buona vita Che la vita è una figata Quanta figa è la vita La figa è una cosa Meravigliosa Un bacio State bene Alla prossima Io ho fatto Basta Ciao Ciao